Beh, ho capito tanto perché comunque è la prima domanda che ti fanno i tifosi appena arrivi. Insomma, si sa dell'importanza della partita, io l'ho giocata a Roma e insomma la rivalità cittadina è importante. Certo, non dà più di prezpunti, però per noi è importante dare una gioia ai nostri tifosi, riscattare la brutta partita di Palermo. Quindi veramente siamo concentrati al massimo e cercheremo di portarla a casa. I tifosi però vi chiedono anche di dare una spinta decisiva in basso verso il Genoa, questo può essere una molla in più? No, non ci pensiamo perché comunque siamo professionisti e dobbiamo solo pensare a vincere e basta. Porta tre punti, vorrebbe dire salvezza, vorrebbe dire tranquillità e quindi proprio poi nella partita più importante dell'anno per i tifosi. Quindi sarebbe una domenica fantastica e quindi insomma cercheremo veramente con tutto noi stessi fino al novantesimo per vincere. Più bello questo dario o quello di Roma? Non lo so, ancora devo giocarlo, però insomma per me che sono di Roma magari è più sentito quello. Ma visto anche quello dell'andata dove le due tifoserie hanno dato spettacolo e hanno tifato fino all'ultimo, credo che sia, anzi sono sicuro che sarà una bella bolgia anche questo.